Ben trovati in un aggiornamento con il TGD3B, situazione dal satellite che ci mostra un'Italia volta dalle nubi per una perturbazione atlantica da ovest, in scorrimento da ovest verso est, ancora precipitazioni e le nevicate che hanno interessato l'arco alpino a quote basse, quote collinari, in biancata per esempio Bolzano e soprattutto Trento. Nel dettaglio il weekend, sabato ancora zona di bassa pressione, venti sostenuti, piogge, rovesce temporali al centro-sud, fenomeni anche intensi sul Lazio, Campania e Calabria. Parziale di miglioramento all'estremo nord-ovest, ancora precipitazioni invece sul nord-est con neve a quote basse sulle Dolomiti. Domenica ancora qualche fenomeno sulle regioni nord-orientali, neve a quote basse sull'Appennino, Emiliano e Romagnolo. Al centro-sud tanta variabilità tra schiarite, qualche precipitazione, calo delle temperature però perché giungerà ovunque il maestrale, quindi temperature in calo anche sulle regioni mediali. La prossima settimana poi lunedì inizialmente bel tempo, ma in vista di metà settimana una nuova perturbazione, si scontrerà con aria fredda sulle nostre regioni, quindi ancora piogge, rovesci, neve sull'Appennino, e nevicate a quote molto basse al nord. Seguite gli aggiornamenti precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.